come dire tre generazioni a confronto volevo un grandissimo applauso a Giulia che è il suo deputto questa sera più forte, più forte non si sente niente il suo papi e il suo nonno quindi per me è un grandissimo onore essere qua questa sera buona serata a tutti buon divertimento 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 Un grande applauso a Giulia La Voce!